La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni per circa 500.000 euro ad imprenditori condannati nell'ambito dell'operazione Profilo Basso, un'inchiesta coordinata dalla D.D.A. di Catanzaro ed incentrata su presunti intrecci illeciti tra le cosche d'Indrangheta del Crotonese e il mondo dell'imprenditoria. La D.A. ha così eseguito una sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile nel febbraio scorso, con la quale sono stati condannati in via definitiva otto soggetti rimasti coinvolti nell'operazione e giudicati con rito abbreviato. La sentenza del 12 settembre del 2023 ha confermato la confisca già determinata dal GIP di Catanzaro il 28 ottobre del 2021, consistente in una serie di beni riconducibili a tre imprenditori di Cosenza e di Torino ritenuti operanti sotto l'influenza delle locali d'Indrangheta, di San Leonardo di Cutro e Rocca Bernarda nei territori di Roma, Velletri, Sellia Marina, Simeri Cricchi e Montalto Fugo, con l'irevocabilità della sentenza risulta definitivamente confiscato l'intero compendio aziendale di cinque società e due imprese individuali attive nei settori del commercio, nonché rapporti bancari e disponibilità finanziarie per un valore complessivo stimato di circa 500 mila euro.